Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Amber di DragonStakeTV ed eccoci in un nuovo episodio di Clash Royale Il nuovo gioco della Supercell E' un po' ragazzi che non vi porto Clash Royale sul canale e dunque eccomi qui oggi con un nuovo episodio Allora ragazzi siccome non voglio dilungarmi troppo come sempre prima di un gameplay Come vedete sono un clan diverso da me di Youtube, sono in Legion IT Giusto perchè sto un po' provando a giocare con mio fratello per riuscire a trovare insomma il giusto masso che fa per me Le carte giuste con cui poter riuscire a scalare dei trofei L'ha rotto 1000 ragazzi di Clash Royale che ho iniziato già ormai circa due settimane fa Diciamo che 1000 trofei li avevo già raggiunti ma purtroppo ragazzi ne vinco 2, ne perdo 3 Sempre così quindi sto ancora cercando di trovare il giusto mazzo E intanto vi dico che quando avrò un po' preso mano in questo gioco vi porterò anche dei tutorial Sono a livello 5 ragazzi, l'ultima volta è a livello 4 se non sbaglio A inizio di livello 4 c'ho 1608 di oro e 944 trofei Inoltre ragazzi ho sbloccato finalmente il dannato principe Anche se qui sotto in descrizione trovate l'articolo sul sito dragonetwork.it In cui parla dell'aggiornamento di Clash Royale nei primi di febbraio Ancora niente per Android ragazzi, mi dispiace ma ancora non c'è niente in Italia Né iOS né Android L'unica maniera per continuare a giocare è ancora con un ID Apple canadese Ho trovato questo dannato principe e dicevo che nei primi di febbraio ci saranno dei cambiamenti ragazzi belli grandi Per quasi tutte le truppe del gioco Quindi vi dico già che ci sarà un bel cambiamento per quanto riguarda il gameplay Quindi non è proprio come adesso perché ci saranno veramente tanti tanti cambiamenti Verranno abbassati, alzati i punti ferita di molte truppe eccetera eccetera Anche di strutture come l'arco X, la torre inferno e tante altre cose Quindi ragazzi tra i primi di febbraio farò ovviamente anche lì un video vedendo un po' che cosa è cambiato Non ci prendiamo troppo in chiacchiere, ho trovato il principe ragazzi come dicevo prima Ed anche il Tesla che però non mi ci sta trovando benissimo Questo ragazzi è il mio mazzo per il momento Vediamo un po' ragazzi, sto ancora testando questa cosa Infatti sto giocando molto contro, sto giocando molto contro mio fratello Giusto per capire un po' cosa utilizzare E dunque andiamo subito in battaglia a cercarci una partita multiplayer Cerchiamo di arrivare questi dannati mille a trofei Fare due partite ragazzi è un po' troppo Quindi speriamo di fare questa partita qui e di vincerla Allora ragazzi questa è la mia strategia Quindi adesso sto tomando la mia lapide con gli scheletrini Una cosa ottima di questa lapide è che quando viene distrutta Praticamente rilascia automaticamente quattro scheletrini Che insomma come difesa vanno alla grande Qui intanto ragazzi già lui manda il gigante e il pecca Quindi ha già utilizzato un bel po' di elisir Io mando la mia bella gigante con il bomba roll che lancia le bombe Ed è molto molto comodo in difesa Ha anche un buon raggio ragazzi E il mio ragazzi draghetto che il drago come sapete va alla grande Anche lui ragazzi ricambia con un altro draghetto E ho trovato anche ragazzi il barile dei goblin Fantastica truppa da lanciare soprattutto verso le torri nemiche Ma qui è stato bravo Anviato il principe Anzi bravo mica tanto Non avrei mandato il principe Il principe Dato che costa ben 5 di elisir mi sembra Allora vediamo se sì Meno male la mia torre bomba attira il principe Quindi mando gli scheletrini Come fermare ragazzi Il principe Il modo migliore ragazzi Con cui mi ci trovo alla grande E mandare gli scheletrini Appena viene spawnato dal nemico Quindi tutti quegli scheletrini Che gli vanno attorno Praticamente lo fanno fuori In circa 5-6 secondi Mando la strega per fermare le sue sgherri Attenzione Lui mi ha tolto già un po' di vita la mia torre Procediamo Aspettiamo un attimino Aspettiamo di caricare un po' di elisir Mettiamoci la mia bomba La mia torre bomba Non troppo in avanti Se no me la fanno fuori Così che anche la mia torre di sinistra Possa attaccare Infatti ha fatti fuori Aspettiamo di ricaricare un pochino ragazzi Ok lanciamo il barile Dato che ha sprecato il elisir Per mandare quel mini pecca Che toglie anche abbastanza danni Vediamo se lo fermano Sì Mando di nuovo il principe Ma mossa sbagliata Era meglio aspettare un attimino Mandiamoci qui la mia lapide Attenzione Mando il suo barile Ma io lo fermo assolutamente Con i miei scheletrini in tempo Per il momento sta andando ok Mandiamoci il principe Dato che Ok perfetto Vai con la velocità Perfetto Schiam No anche lui Ha mandato anche lui i scheletrini Stessa mossa che ho fatto io prima Praticamente Vediamoci qui la bomba La torre bomba Vediamo se riusciamo A fermare quello lì Vediamoci anche il draghetto Non troppo in avanti 30 secondi 30 secondi ragazzi Ancora nessuno Ha fatto fuori la torre Dell'avversario Attenzione Mando il principe Ma lo fermo di nuovo Con i miei scheletrini Attenzione Drago e strega Sono full vita Mandiamoci subito il barile Vediamo se riusciamo A farli fuori Entro 14 secondi Quella torre Anche se non penso Mandiamoci subito il principe Ragazzi 10 secondi Questa è vinta Questa è vinta No ti prego Si Si Perfetto ragazzi In 3 secondi E siamo riusciti A portarci a casa La victoria Perfetto Anche la cassa D'oro E ben 34 Trofei Siamo a 978 Trofei Sempre più vicini Ragazzi Ai 1000 Trofei Allora ragazzi Direi che Non voglio fare Il video troppo lungo Quindi Per il momento È solamente un gameplay E la prossima La prossima volta Che io gioco a Clash Royale Il prossimo episodio Vi prometto Che comincerò subito Con 2 gameplay Quindi Non parlerò più All'inizio Quindi ragazzi Il prossimo episodio Vediamo se raggiungiamo I 2000 likes Per il prossimo episodio Di Clash Royale Nella quale Comincerò subito Proprio a manetta Con 2 attacchi Se non 3 Siete pronti ragazzi Ci vediamo dunque In un prossimo video Mi raccomando Spolliciate E se volete vedere Cosa ci sarà Nell'aggiornamento di febbraio Qui sotto nella descrizione Trovate il link Dell'articolo Bene ragazzi Dopo questa vittoria epica Ciao ragazzi Da Amer Ciao ragazzi